cari ragazzi oddio 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 piacere mio alessio questa sera vedo che te la prendi con calma quando parli sono andato su facebook ma vedi che sta facendo lo spelling con il computer si sentiamo cosa da dire allora io ho scritto che mi potevano fare delle domande nei commenti di youtube tramite email e vabbè io me ne vado eh ciao ancora lì no vabbè a fare il secondo video rispondo alle domande se quello era il secondo il primo deve ancora finire questo infatti è il secondo che faccio 2 1 2 1 2 ok la prima domanda trovata per caso nell'indirizzo mail per caso cioè nella posta indesiderata intendi è sono un tuo fan affezionato oh che carino è affezionato perché non inizi a fare gameplay come di pre non posso fare gameplay come di pre perché lui non fa gameplay perché non ho la playstation volevi non sarebbe figo come non parlo che puzza meno che vada ma no come vai si sarebbe figo guardami papiri però papiri papiri oh papiri ah comunque si è fatta notte vedi quello che avete sentito e odorato è una scoreggia aspetta fammela risentire ah ok a posto ma la rimango nel video perché è il bello della diretta è il bello della diretta e vabbè ciao seconda domanda di già andiamo bene ciao sono un tuo grande fan nart hai ps3 xbox ps60 wii nintendo psb tamagogica i tablet smartphone papiri ehm se si ci vai online ma bisogna essere ristronti ehm no mi dispiace non ho papiri nè la playstation 3 nè l'xbox del 60 e nemmeno la wii cazzo allora papiri papiri se si a quest'ultima domanda mi puoi dare il tuo nickname per favore eh eh non te lo posso dare perché non ho non ci vado online ma dai bravo e non te lo posso dare uffa ora oddio la terza fino alla decima ah quindi facciamo l'alba me le hanno scritte su facebook allora rispondo alla terza TEMOVI è vero che vai dal parrucchiere una volta a settimana ora da bravo inserisci nella risposta parte della domanda no non vado dal parrucchiere una volta a settimana infatti quando mai ci vai è vero che sei laureato in fisica nucleare tempo che arriva la centrale e già esplodo tutto no non sono laureato in fisica nucleare che sono sti gesti qual è il tuo youtuber preferito dai su dillo pavij mates melagoto illuminati crew il mio youtuber preferito è daniele andreani se vuoi perché bravo a fare scureggio come tessi fermi paolo sono 20 minuti fuori papiri è un ottimo youtuber però non ti so dire perché beh certo è normale c'è ste garba senza motivo ma che cazzo è vero che che ce la faccio a pero ha incendiato un pozzo quelli sono gli albanesi questa domanda mi fa ridere hai capito? incendiare un pozzo perché come si fa a incendiare un pozzo non si può vado a cagare sesta domanda è vero che ti sei picchiato con l'avvocato di pre no non è vero non mi sono picchiato con l'avvocato di pre e ho tra scemi c'è intesa si vede feeling lui mi ha fatto aspettare tanto tempo ah lui ti ha fatto aspettare tempo tre ore qui che vaffa non finisci ste domande settima domanda pantofolaio piace stare in casa? certo al pantofolaio piace stare in casa ecco con la pantofola il bello della diretta ancora sta diretta e basta non ha domanda dai che ne manca uno ne manca uno una solo cosa ne pensi della figa? la figa è un frutto non posso dire che cosa è altrimenti mi censurano questo video decima domanda è vero che fai parte di che? di Anonymous sei Anonymous no non faccio parte di Anonymous non so nemmeno chi è lo sanno pure i bambini va bene la saluto alla prossima ciao 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 arrivederci ho detto ciao io credo che lei non abbia bisogno del mio aiuto a lei occorre uno specialista facciamo un altro giro stanotte è un delirio ciao ciao